Ciao a tutti. Oggi, visto che molti di voi mi hanno chiesto informazioni, comincio a parlare della piccola collezione di statuette che vedete alle mie spalle. Sono riproduzioni relative a culture diverse, periodi storici diversi, luoghi diversi, e ho deciso di cominciare da questa, la Venere di Les Piugues. La Venere di Les Piugues è una di quelle statuette che si annoverano nel gruppo delle cosiddette Veneri del Paleolitico, ovvero una serie di statuette di figure femminili nude, o quasi come vedremo tra poco, che risalgono per l'appunto al Paleolitico Superiore. Già questa è una considerazione interessante perché, vedete, queste Veneri compaiono tutte più o meno nello stesso periodo, il Paleolitico Superiore appunto, e in zone diversissime e lontane tra loro. Questo indica che il concetto, l'idea alla base di queste figurine è probabilmente più antica, spostatasi poi in luoghi diversi con le immigrazioni umane di quei periodi lontani. Questo ed altri particolari ci permetteranno alcune importanti considerazioni. Ma prima, ricordate che se mi state ascoltando siete la resistenza. La Venere di Les Piugues fu scoperta il 9 agosto del 1922 nella grotta de Rideau di Les Piugues, appunto, nell'alta gronna francese, ai piedi di Pirenei, da René Semperie. Questo archeologo, medico naturalista biologo francese, aveva già scoperto la grotta nell'agosto del 1911, ma poté proseguire gli scavi solo dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E come spesso accade nella storia dell'archeologia, potrei citare i celebri esempi di Carter con Tutankhamon o di Schleman con Troia, ma ce ne sono tantissimi, nell'ultima tornata degli scavi, alla fine proprio. Infatti da alcune note di René Semperie pare di capire che volesse completare l'esplorazione di questa grotta in alcuni giacimenti archeologici rielaborati da lui ritenuti poco promettenti. Ed è lì che rinviene invece la Venere di Les Piugues, una statuina di circa 15 cm di altezza, una delle più grandi tra le Venere del Paleolitico di tutta l'Eurasia, per 6-7 di larghezza, finemente intagliata nel lavorio di una zana di mammut. La Venere di Les Piugues si fa risalire alla cosiddetta cultura gravettiana, che si è diffusa in un periodo del Paleolitico Superiore, appunto, che si colloca tra 29.000 e 20.000 anni fa. Qualcuno ha addirittura sostenuto che possa risalire all'Aurignaziano, e in effetti la grotta d'Aurignac, sempre nell'Alta Garonna, e da cui questo periodo del Paleolitico Superiore prende il nome, non è molto distante dalla grotta d'Eridou. Sarebbe veramente interessante se si potesse far risalire la statuetta all'Aurignaziano, perché ciò retrodaterebbe questo reperto di un bel po' di migliaia di anni. La Vignaziano, infatti, copre un periodo di tempo che va da 47.000 a 35.000 anni fa, e costringerebbe ad ulteriori riflessioni un po' su tutta l'arte paleolitica. Vedremo comunque che c'è almeno una statuina che si può far risalire a questo antico periodo, ma non certo la Venere di Les Piugues. Per questa si è ragionevolmente certi dell'attribuzione al gravettiano, proprio perché la statuetta è stata rinvenuta in uno strato di industrialitica ed ossea contenente specifici reperti del periodo, bulini, punte a freccia molto sofisticate, armi da lancio. La statuetta fu comunque, al momento del ritrovamento, spaccata in nove frammenti dallo stesso colpo di piccone che la rivelò a Semperier e al mondo, per cui è stata dapprima ricomposta e poi sottoposta a un restauro ricostruttivo. E se tale ricostruzione è corretta, di tutte le Veneri cosiddette stiatopigie del paleolitico superiore, la Venere di Les Piugues è quella che mostra i caratteri sessuali secondari femminili più esagerate, appunto, tra tutte quelle rivenute finora, in particolare seni estremamente grandi e penduli. Inoltre, secondo alcuni esperti dell'industria tessile paleolitica, come Elisabeth Wayland-Barber, la Stato mostra la prima rappresentazione nota di filo filato, poiché l'intaglio mostra una specie di gonna che pende da sotto i fianchi a forma di perizoma triangolare, che sembra essere formato da strisce intrecciate tanto precisamente incise da fare intuire chiaramente il senso stesso della torsione delle fibre. Questa gonnella sarebbe poi rifinita con una frangia con alcuni dei bordi sfilacciati. La Venere di Les Piugues mostra il suo corpo nudo e idealizzato, scomposto e poi ricostruito attorno a forme e volume annidati simmetricamente. L'opera sfugge alle regole del naturalismo, è stato detto, entrando addirittura nell'idealismo, e da qui si potrebbe sottolineare la notevole capacità dei nostri antenati del paleolitico. Partendo dalla constatazione che non si tratta evidentemente di un ritratto, potremmo speculare, perché di speculazioni si tratta, non potremmo mai averne la certezza, che sia l'illustrazione di un simbolo, e dunque di un'idea, probabilmente funzionale a qualcosa, un sacro, un rituale, un propiziatorio, simbolo di fecondità, dea madre, donna in quanto donatrice di vita, quindi simbolo di maternità. Di ipotesi se ne sono fatte tante, ma certo il fatto che la figura si possa leggere bene nei due versi, è stato notato da qualcuno, e posto che questa fosse la reale intenzione dell'artista e non nell'elucubrazione mentale dell'uomo moderno, può aiutare a ipotizzare altri significati per questa ed altre opere simili. Sta di fatto che dovevano avere queste venere una grande importanza per gli uomini di quel tempo, perché non hanno alcuna utilità pratica, se non quella di rappresentare per l'appunto quel simbolo, quell'idea. E in quanto sto dicendo aiuta il fatto che siano state trovate nei luoghi più importanti, cioè nei luoghi abitativi, ad esempio le grotte in cui sono state individuate anche tracce di vita domestica, come residui di materiali commestibili o focolari, in luoghi sacri, in cui cioè sono stati trovati anche oggetti e dipinti rituali, ed anche nelle tombe, insieme ad oggetti del corredo funebre. Ma di questo parleremo in un video specifico sull'arte parioritica, mentre delle altre statuette in altri video. Voi continuate a seguire i mitiche stelle. Ciao!